Cinque nuovi casi di positività al covid-19 si registrano in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Il totale risulta inferiore di tre unità in quanto sono stati sottratti altrettanti casi risultati già in carico ad altra regione. Le cinque nuove positività hanno età compresa tra i 21 e i 67 anni. Salgono così complessivamente a 3921 i casi di diagnosi di coronavirus registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Il numero di pazienti deceduti resta fermo 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2943 dimessi guariti più 19 rispetto a ieri di cui 17 che da sintomatici sono diventati asintomatici e 2926 che sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 506 meno 17 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 169.023 test. 35 pazienti più uno rispetto a ieri sono ricoverati in terapia non intensiva. Due invariato rispetto a ieri in terapia intensiva mentre altri 469 meno 18 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi 524 sono residenti o domiciliati nel provincia dell'Aquila più 4 rispetto a ieri. Invariati i dati in provincia di Chieti 929 e provincia di abbiamo 721. 1714 in provincia di Pescara più uno. 31 fuori regione anche in questo caso dato invariato e due per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Meno 3 rispetto a ieri.